Oggi andrò a montare nella mia Africa Twin i filtri dell'area Googlatech. Ciao ragazzi, benvenuti e bentrovati a questo nuovo Blacky Special. Blacky Special che vi avviso sarà abbastanza lunghetto e durante il quale io andrò a montare i filtri dell'area Googlatech nella mia Blacky, nella mia Africa Twin. E il video sarà piuttosto lunghetto perché andrò a commentare passo passo tutte le varie operazioni. È da un po' di tempo che stavo pensando di passare a dei filtri dell'area lavabili. Ci sarei voluto passare al tagliando dei 24.000 km l'anno scorso, quando appunto ho dovuto cambiare i filtri dell'area. Ma in quel momento Googlatech non aveva ancora realizzato i suoi filtri lavabili. Ci ha messo un po' di tempo in effetti a farli perché a detta sua ha dovuto studiare bene il tipo di matrice da utilizzare nel tessuto del filtro lavabile per offrire appunto un prodotto di alto livello per questa moto. Ed in effetti questo filtro nasce per essere utilizzato solo ed esclusivamente su strada montandolo così come arriva senza dargli alcun prodotto. Mentre chi fa fuori strada e frequenta strade molto polverose come ad esempio me, dovrà trattare il filtro nel suo lato esterno con l'olio, un olio che poi vi farò vedere. E in questo modo il potere filtrante del filtro stesso aumenta. Molti di voi diranno che ci sono tanti filtri lavabili in giro. Primo tra tutti il BMC. Bene, io fino ad oggi non l'ho mai preso in considerazione perché ho letto e sentito dire da più voci che quel tipo di filtro è un po' troppo aperto per l'uso in fuori strada. Anche se trattato con olio o grasso. Cosa ci sia di vero in quello che vi ho appena detto non lo so, però siccome l'ho sentito dire da persone anche preparate, ho preferito fidarmi. E ho aspettato appunto che arrivasse Kuglatek con un prodotto veramente studiato ad hoc per la nostra moto. Parlando di prezzi, come sapete io ho preso un kit composto da due filtri aria e il filtro benzina. Il tutto arriva in questa scatola qua e ho speso sui 140 euro. Ma se prendiamo solo i filtri, se non vado errato, costano 110 euro contro i 90 circa di quelli originali della moto. La differenza è che questi volendo ogni 6.000 km o 10.000 o 12.000 li smontate, li lavate con un normale sgrassatore da casa e li rimontate e avete sempre filtri al top. Mentre quelli di serie dovrebbero essere cambiati a 24.000 km, 24.000 km che sono probabilmente giusti per chi fa solo asfalto, mentre sono veramente troppi per chi come me utilizza la moto anche in strade polverose. Ed in effetti quando arrivano a quel chilometraggio sono veramente in condizioni pietose. Solo che si butta via 90 euro ogni volta e sono veramente tanti per una coppia di filtri e questo è il mio modesto parere. Mentre in questo caso se ne spendono 110 ma poi di fatto durano una vita e sono lavabili. Premesso che Google Tech ha fatto nel suo canale YouTube un video abbastanza dettagliato che riguarda il montaggio di questi filtri, io vi lascio il link in descrizione, I filtri arrivano privi delle guarnizioni. Questa è una scelta che ha fatto il costruttore, scelta che io condivido pienamente perché non è la prima volta che si va a comprare un qualcosa con delle guarnizioni già montate e si trovano le guarnizioni scollate. Lui le fa arrivare a parte e bisogna montarle per conto nostro. L'altra cosa che consiglia Google Tech è l'utilizzo di questo olio qua, l'olio Rock Oil. Però attenzione, lui nel suo video fa vedere che utilizza l'olio non in versione spray ma in versione liquida tradizionale che poi mette in uno spruzzino e spruzza addosso filtri. Io avevo già a disposizione questo, l'avevo comprato per il mitico Beta, per chi ne aveva appunto sentito parlare molto bene di questo olio per filtri e quindi non sono stato a ricomprarlo. Ma per far bene ci vorrebbe quello liquido perché, dice Google Tech, non ci sono i solventi o i gas che ci sono nelle bombolette e quindi è più gentile verso i materiali con cui è costruito il filtro stesso. Iniziamo quindi le varie operazioni necessarie per il montaggio dei filtri. La prima cosa che faccio è quella di andare a sgrassare la superficie dove andranno applicate le guarnizioni. Questo perché può essere che durante la fase di stampa dei filtri stessi possa essere rimasto qualche residuo sopra che in qualche modo potrebbe rendere difficoltoso l'incollaggio dei filtri stessi. Potrebbero ad esempio distaccarsi. Quello che faccio è semplicemente passarci con un pezzo di carta da cucina e dell'alcol. Arrivato a questo punto vado a montare le guarnizioni. Guarnizioni che come vedete hanno un verso obbligato e quindi è pressoché impossibile sbagliare. Vado a distaccare prima la pellicola antiadesiva da una parte. Quindi lo vado a mettere in posizione in questo modo qua. Lo appiccico. Appiccico anche di qua. Tiro un po' avanti la pellicola. Procedo con l'appiccicaticcio. Poi lo faccio scavallare delicatamente. Qui sto attento perché c'è questo pezzo un po' più complesso. Qui procedo. Ok. E poi arrivato qua giù. Tolgo tutto. Lo comprimo verso il filtro stesso e pigio. Direi che l'operazione è veramente facilissima. È alla portata di tutti. E adesso faccio in velocità 4 per il secondo. E quindi i miei due filtri sono pronti per essere oliati. L'olio al filtro gli va dato in questo lato qua che è il lato esterno. E siccome io non voglio imbrattare il filtro oltre il necessario faccio quest'operazione qua. Prendo del semplicissimo nastro da carrozzieri. Questa è un'operazione che ovviamente non è indispensabile. Io la faccio perché almeno così dopo mi risparmio di dover pulire il filtro. Arrivato a questo punto devo dare l'olio ai filtri. E io come vi ho già detto purtroppo quello spray e non quello liquido. Ma se siete a comprare mi raccomando comprate sempre questa marca qui. Ma quello liquido e non quello spray. Credo che una passata così sia sufficiente. Quello che faccio adesso è andare a mettere il filtro in posizione orizzontale. E lasciare all'olio il tempo necessario per spandersi uniformemente sopra il filtro. E mentre i due filtri sono lì ad aspettare che l'olio si spanda uniformemente in tutta la superficie. Iniziamo a smontare l'Africa Twin. La prima parte che va rimossa è questa fascia di plastica qua. Che è fissata con due viti a brugola. Con brugola di 5. Poi all'interno c'è il dual lock della 3M. Quindi la vado a sgangiare da qua su dove c'è il dual lock della 3M. Questo qua e poi qua su semplicemente la sollevo verso l'alto perché come vedete c'è questo dentino che la fa incastrare in questa sede qua. E ovviamente vado a smontare allo stesso modo quella dalla parte opposta. Dopodiché aiutandomi sempre con la solita brugola di 5 vado a togliere le 4 brugole che tengono il pezzo di plastica centrale. Prima ne vado ad allentare tutte e quattro. Dopodiché faccio un cambio di strumento. Prendo un cacciavite. Quindi utilizzando questa volta i cacciavite vado a togliere altre due brugole sempre da 5 nella parte alta del cupolino. Adesso bisogna togliere solo le clip e ce ne sono due per parte nella parte alta della carena. Uno è qua, questo qua e uno è qua davanti sotto la cendi sigari. Per toglierle io uso un piccolo cacciavitino a taglio. Vado a premere nel centro della clip. Dopodiché anche semplicemente sollevando leggermente la capocchia della clip vedete che la clip stessa esce. Eccola qua. Dopo prima di rimontarla andrà messa in questa posizione qua e quindi inserita. Poi si va a premere il pulsantino. Ve la faccio vedere ora. La metto qui e premo. Quindi per toglierla, solita procedura. Piso al centro, faccio leggermente leva e tolgo la clip. Lo stesso questa qua giù in fondo. Adesso voi mi rendo conto che probabilmente non vedrete ma rimane in una posizione molto buia. Vi potete anche aiutare con le unghie naturalmente. E questa è l'altra. Ci sono quindi le altre due clip che voi probabilmente vedrete malissimo. Sono una qua e una qua giù. E vanno tolte allo stesso modo. Quindi premo in mezzo, mi aiuto con il cacciavitino a taglio e la tolgo. Ecco qua la seconda. Adesso vado nella parte anteriore e tolgo il cupolino. Per la verità si potrebbero smontare le carene anche senza togliere il cupolino. Ma se volete fare un lavoro, diciamo, più fine vi consiglio di toglierlo. Utilizzerò la solita brugola T5 con il mio cacciavite. E mi raccomando, quando fate quest'operazione state molto attenti, specialmente sotto. Perché questi gommini sono bastardi. Dietro i buloni ci sono dei gommini. E se fate troppa pressione rischiate di spingere il gommino all'interno. Dopodiché vi cadrà dentro la carena che protegge i fari. E dovrete smontare mezza moto per recuperarli. Vi consiglio quando siete a questo punto che il bulone è già uscito. Andare con la mano a completare lo svitamento. Ok? Leggermente delicati. E mi raccomando, fate attenzione a non perdere entrambe le riparelle. Una di gomma di colore nero e una in polipropilene, credo, di colore bianco. Un altro consiglio. Se mentre state svitando non vedete il bulone che fuoriesce dal cupolino. Significa che il gommino sta entrando dentro. Si sta spostando il gommino anziché il bulone. Ecco, quello è il primo segnale che rischierete di perdere il gommino dentro la carena. Quindi in quel caso lì vi consiglio di afferrare in qualche modo il bulone e tirarlo a voi. Ok? Mi raccomando, tutti i buloncini metteteli in una scatolina. Di modo che poi alla fine guardate se vi è avanzato qualcosa. Non lasciateli in giro, sennò poi li perdete. Nella parte alta la situazione è molto più semplice perché il gommino è qui, è esposto. Quindi anche se si dovesse muovere comunque sia non cade dentro la moto e lo si può rimettere in posizione facilmente. Quando tagliate l'ultimo bulone tenete anche il cupolino con le mani perché altrimenti vi cade in terra. Questi sono i quattro gommini famosi che rischiano di cadere dentro la carena. Il consiglio che vi do quando vi saranno caduti per la prima volta dentro la moto, dentro la carena, perché tanto capita a tutti, è quando andrete a rimetterlo in posizione, metteci un goccino di loctite sotto di Atac, in modo che il gommino rimane lì e non si muove. Arrivato a questo punto mi rimane da togliere le clip che sono in questa zona. Ce ne sono tre qua e tre nel lato opposto e più ce ne sarebbe una quarta qua su in alto. Una, due, tre, quattro. Una, due, tre e quattro. Quindi otto clip in totale. Ultimo pezzo che devo andare a togliere prima di rimuovere le due carene è questo pezzo di plastica centrale che era fissato con le quattro viti. È aggangiato alle due carene laterale e poi ha un pezzo di plastica qua interno, ma niente di difficile. Si leva un po', si sblocca, poi si fa un po' di forza, mentre la fate sentite le varie clip che si sgangiano. Ok, poi quando si è sgangiato da una parte e da quell'altra viene via da solo, in questo modo qua. Arrivato a questo punto posso finalmente togliere le mie due carene. Io le tolgo anche senza rimuovere la barra di protezione Hotback Motor Tech, ma naturalmente se voi avete delle barre alte le dovrete rimuovere. Quindi cos'è che faccio? Vado a sgangiare i gommoni che ci sono da questa parte, perché ci sono delle clip, degli incastri, che entrano dentro a dei gommoni e io per togliere la carena la prima cosa che devo fare è sgangiarli. Semplicemente tirando verso l'esterno la carena, in questo modo qua. Ok? Ce ne sono tre. E arrivato a questo punto devo prendere tutto il blocco carena, in questo modo qua, delicatamente andare a sbloccare tutti gli agganci che ci sono in questa zona, dopodiché arriva la parte difficile, la parte in cui molti fanno danno. Fanno danno perché qui ci sono due clip, due clip che si rompono a guardarle e a me in effetti mi sono rotte una e una e poi le ho dovute sostituire. E anche qui c'è un dentino che si rompe a guardarlo e anche a me si è rotto infatti, ma per fortuna quello che è qua sotto non è indispensabile. Quindi arrivato a questo punto semplicemente vado a forzare in avanti la carena, spingendola e lei come vedete fa questo movimento scattoso ed esce. Questi qui sono i due gommoni dove in pratica vanno ad agganciarsi i due denti della carena che si rompono facilmente e qui vedete i due denti che mi sono ricostruito della mia carena perché in pratica si erano rotti. Era rotto quello più alto, questo qua su, e l'ho dovuto ricostruire, visto che c'era ho ricostruito anche quello sotto. Adesso c'è un prigioniero, un'anima di metallo e quindi è indistruttibile. E poi l'altro pezzettino che mi si è rotto è questo dentino che era qua su in cima che come vedete non c'è più. Quello che veramente serve ed è importante è questo qui. Seguendo lo stesso schema, quindi prima tiro a me la parte interna qua sbloccando tre agganci, vado a smontare anche la carena di destra. Quindi tiro fuori, sblocco, sblocco, vado a sgangiare, vedete? È abbastanza veloce una volta presa la mano e poi forza in avanti. Eccola qua. E qua vi faccio vedere senza fare troppo la macro, anche qui i due dentini rifatti. Siamo infine arrivati, per fortuna dopo aver smontato mezza moto, ai coperchi dei filtri dell'aria. C'è uno qua e uno dalla parte opposta. Questi coperchi vanno tolti per poter accedere al filtro dell'aria. E abbiamo quattro viti a croce, due sopra e due sotto. Quelle sopra le dovete togliere, in questo modo qua, e conservare con cura, senza perderle. Quelle di sotto invece non serve toglierle completamente, basta allentarle perché hanno una gabbiettina di protezione che impedisce che la vite vada persa. Quindi importa solo assicurarsi che siano completamente allentate. Una volta tolte le viti, per poter rimuovere il coperchio, devo sbloccare questa parte di pomma qua, che ha un nome che non mi viene in questo momento, e che rimane in sede grazie ad un piccolo pispolino che è proprio a questa altezza qua. Si tratta di infilare un dito sotto e forzare in avanti verso il muso della moto. In questo modo qua. E' facile da dirsi che da farsi. Ok. Quando lo sbloccate lo vedete perché tutto il coperchio diventa ballerino. E quindi a questo punto si può flettere questo, tirarlo fuori, in questo modo qua, e si può togliere tutto il coperchio. Per la verità l'operazione è un po' macchinosa, perché a volte si incastra qua dentro, ma viene via abbastanza facilmente. E quello che vedete è il filtro dell'aria originale della moto. E come vedete queste qui sono le due gabbiettine delle due viti inferiori, che appunto impediscono che le due viti vadano perse. E finalmente, dopo aver tolto anche il coperchio filtro della parte opposta, vado a rimuovere effettivamente il filtro dell'aria, che sta in posizione tramite due viti a croce, che anche in questo caso, mi raccomando, non vanno perse. E questo è il nostro filtro dell'aria. Filtro dell'aria che, come vedete, ha una posizione obbligata. Queste due linguette che vanno dentro, e poi i fori di montaggio. Vedete? Semplicissimo. E adesso andiamo a montare i filtri Google Tech. Ecco il mio filtro Google Tech oleato a modino. La posizione di montaggio è veramente molto facile, impossibile sbagliare, ok? Prima accosto entrambe le viti, poi le vado a stringere completamente. Non occorre serrare chissà quanto, basta accostarle bene e stop. Procedo adesso con il rimontaggio del coperchio. Ricordatevi sempre questo discorso qua, ossia questo gangino che andrà rimesso in sede qua sulla parte anteriore. Per farlo vi dovrete aiutare con il dito, in questo modo qua. Inoltre, in fondo, ci sono questi due gangi che devono essere assolutamente centrati nelle loro sedi per rimontare correttamente il coperchio. I denti li ho presi, lo vedete perché altrimenti non accoppia nella parte alta. Vado quindi a mettere in sede il filtro nella parte anteriore dove c'è quel gangino, lo devo spingere in avanti col dito, forzare fino a che non entra nella sede. E poi è lì bloccato. Dopodiché vado a mettere tutte le viti. Vi ricordo che quelle sotto non andavano tolte, quindi ci sono già. In prima battuta le vado semplicemente ad accostare, poi dopo le stringerò insieme tutte. Una volta accostata, rifaccio il giro, accostandole un po' più forte, senza esagerare. E quindi vado a fare esattamente le stesse operazioni nel lato opposto della moto. Arrivati a questo punto, posso finalmente rimontare le mie carene. Prima di rimontarle, vi ricordo il trucchetto del grasso al silicone. Pulite bene e date un goccino di grasso al silicone a questi due gommini qua, a questo gommino qua, a questo gommino qua e a questo gommino qua. E infine a questo gommino quassù. Allo stesso modo ripulite bene tutti i vari agganji corrispondenti a quei gommini e se volete fare il lavorone, date un goccino di grasso al silicone anche a tutti questi vari agganji. Perché questo vi aiuterà nel montaggio e nello smontaggio la prossima volta. L'unico difetto di darci il grasso al silicone è che potrebbe attirare e raccattare un po' di polvere. Non è un problema, basta ogni volta che si smontano le carene ripulire il tutto. Però se ce lo mettete, la prossima volta che andrete a smontarlo si smonterà molto facilmente. Invece se lo lasciate a secco può darsi che dovrete bestemmiare un attimino. Quindi nel mio caso devo fare un po' l'equilibrista qui perché devo passare tra la barra e la moto. Niente di impossibile. Poi la prima cosa che faccio è vado a centrare questo qua giù e poi dovrei anche centrare questo qua su che io non ho più. Come vi ho già detto. Cerco di fare un allineamento sommario. E poi i primi due denti che devono aggangiare sono questi due qua su che sono solitamente quelli più ignoranti ed ostici. Quindi uno e due. Una volta aggangiati questi due infatti bisogna rispingere in avanti un attimino la carena e cercare di renderla il più aderente possibile. In queste zone qua. Qua su come vedete non è entrato. Ok adesso ci siamo. Hanno fatto degli incasti veramente molto molto precisi. Se non li beccate bene la carena smonta lo stesso. Però poi vi rimane filo d'aria qua sotto e qua sotto. Qui un pochino ci rimane sempre ma è normale. E' qui veramente che diventa brutto da vedersi. A questo punto vado con la mano a sincerarmi che tutto si ha in sede perché poi dopo qua sotto ci dovrò mettere le clip. Quindi vado a far scattare tutti i vari gommoni. E se sarete stati fortunati come sono stato fortunato io in questo momento non ci sarà da fare altro. Se non che rimettere le viti e le clip. Le quattro clip da questo lato ce le vado a rimettere ora. Dopo averle messe la faccio scattare una, due, quando le faccio scattare cerco sempre di tenere accostate le parti. Tre, quattro. E adesso facciamo l'altra carena. Dalla parte di qua stesso esatto identico discorso. Niente di diverso. Ok? Prima questi due va su. La cangio lì. Adesso. Ok? Lo so visto fatto così. Vi sembrerà tutto molto semplice ma in realtà vi posso assicurare che le prime volte non sarà proprio così semplice. Dalla parte destra c'è solo una particolarità. Qui l'aggancio nel radiatorio è un po' diverso rispetto alla parte di là. Quindi bisogna sincerarsi con le mani che tutto sia andato in posizione. Quindi comprimere i vari gommoni. Vado a mettere le quattro clip, una qua su, la faccio scattare subito altrimenti mi cade in terra. Una, due e tre. E la parte l'avevo già fatta scattare. Adesso visto che sono qua vado a rimontare il mio cupolino. Per il cupolino mi raccomando vi ricordo il discorso dei gommini, quelli di sotto, che rischiano di cadere. Quindi suggerimento mio personale, le viti sotto inseritele e fatele abboccare a mano, in questo modo qua. Senza fare troppa pressione. Lasciate proprio che la vite prenda il dado del gommino automaticamente, senza forzare. In quelle di sopra i rischi sono ridotti, quindi potete utilizzare anche un cacciavite. Accostate e basta senza stringere per il momento. Come vedete li sto andando a stringere progressivamente uno ad uno. E la domanda qui è quanto bisogna tirarli questi qua? Beh, una risposta non c'è. Perché effettivamente essendo di gomma viene da tirarli all'infinito. Sembra che non arrivino mai. In realtà proprio perché sono di gomma e fanno compressione, non ha senso tirarli a maledizione. Perché è veramente difficile, se non impossibile, che le viti si allentino. E quindi in pratica per stringerle basta dargli proprio quel minimo di forza sindacale. Ecco, senza esagerare. A questo punto vado a rimontare questa parte di plastica qua, che è semplicissima, non vi preoccupate. Prima di tutto la fate rientrare in sede da una parte, così la fate scattare. Poi dopo la acusterete dopo per bene, non vi preoccupate. Poi fate lo stesso lavoro dalla parte di là, cioè entrare così. Dopodiché dovrete assicurarvi che è entrata negli incastri sotto. Lo sentite con la mano se le plastiche sotto sono alineate con il coperchio. Perfetto. Vado quindi a rimettere le mie clip nella carena, due per parte, ricordo. Una qua, una qua, una qua e una qua giù che rimane un po' al buio. Vado quindi a rimettere le viti nella parte alta della carena, qua su in alto. Dovete usare queste viti qua. Sono di due tipi. Queste sono quelle che vanno attraverso la plastica. Non le stringete a maledizione, mi raccomando. Quindi vado a rimettere anche queste viti qua. Prima di estringerla a costo la plastica, in questo modo qua, e stringo. Infine vado a montare queste due viti qua, una qua, una qua. Come vedete sono diverse dalle altre, perché non devono attraversare la carena, ma sono metallo su metallo. Ed infine per concludere il lavoro vado a rimontare le due strisciatine laterali. Lo metto prima qua, faccio scattare lì. Quindi vado a premere il dual lock 3M, in questo modo qua. E poi in ultimo mi vado a sincerare che il foro corrisponda con il dado che c'è qua sotto. Dalla parte qua su in alto ci metto la vite, quella per carena, perché deve attraversare la carena. Anche in questo caso non serve stringere a maledizione, basta accostarla. Quindi vado a fare la parte di là e ho finito il rimontaggio della moto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del lavoro. Spero di non essere stato oltremodo noioso. Ho cercato di fare del mio meglio per spiegare tutte le varie operazioni. Per mettere in grado anche chi non ha particolare abilità di rimontarsi da solo i filtri. Perché come avete visto, tutto sommato, facendo le operazioni nel modo giusto, non è affatto difficile. Per quanto riguarda filtri, quando potrò riutilizzare normalmente la moto, avrò un modo di provarli per bene e naturalmente poi tornerò a parlarvene in un video dedicato ad hoc. Detto questo non ho altro da aggiungere. Ciao a tutti e alla prossima!